Sono state le allieve della scuola di danza classica Erna Bonk ad accogliere Carla Fracci nella sala Viani della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio. Alla Grande Toile, madrina del primo corso di carnevale, è stato infatti conferito da parte della Fondazione Carnevale e del Comune di Viareggio il premio Undina 2019 dedicato alle donne straordinarie. La mattinata è iniziata con gli autografi del sindaco e di Carla Fracci sulla macchina ufficiale del carnevale poi l'esibizione all'interno della sala della Galleria GAMC stracolma di Viareggini che hanno voluto rendere omaggio alla grande ballerina che era accompagnata dal marito, il regista teatrale Giuseppe Melegatti. Una grande emozione per la Fracci che ha assistito alla prima uscita del corso mascherato, restandone entusiasta. Io sono felice perché hanno dedicato a me questo premio e ringrazio molto il sindaco e tutte le autorità che mi hanno ospitato in questa bellissima città con un carnevale meraviglioso e io mi sono molto divertita ieri e con un dispiacere anche di lasciare questa bella città col mare, con l'aria, con queste persone così gioiose perché veramente ieri ho visto la felicità di tutte queste persone che attendono con ansia il carnevale. Comunque, grazie, grazie. Nel corso dedicato alle donne da cui è partito forte il messaggio contro la violenza di genere la scelta di Carla Fracci come madrina è stata, secondo il sindaco Giorgio De Ghingaro, più che doverosa. Noi siamo felicissimi che Carla Fracci abbia accettato il nostro invito ed è assolutamente significativo che il carnevale di quest'anno sia dedicato proprio alle donne. Quindi non solo il carnevale della tradizione e dell'innovazione ma anche il carnevale che ha al proprio interno delle tematiche particolari come quella della solidarietà e quest'anno il tema della violenza sulle donne. Credo che una madrina più importante di Carla Fracci non potevamo averla. La città di Via Reggio è veramente molto contenta.